Vincere! 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 Ciao a Juve e torniamo sul mio canale! Siamo qui oggi per fare la reazione Napolite. Siamo qui con le mani del linterista. Mi si è entrato al manaduro per vedere la banca. Fa freddo, eh? Fa freddo? Ma, direttamente. Vincere! La partita è importantissima. Dovevo rinforzare a vincere per accorgiare su Inter, l'Orientis e Milano. E loro per superare la Juve. Noi ci vediamo di meci. Speriamo di meci. La fine. L'Orientis e Milano. Grazie a tutti! 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 E a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!